Ferraro, un ruolo di responsabilità nella lista 5 Stelle a sostegno di Galimberti, con quale spirito affronta questa campagna? Lo spirito è quello costruttivo, praticamente abbiamo da settembre dell'anno scorso portato avanti un percorso di alleanza col sindaco, le principali ragioni sono state due, uno la persona del sindaco che è una persona onesta e dedicata a Varese, la seconda il programma al quale noi abbiamo contribuito effettivamente da febbraio a oggi. Possiamo dire che 5 Stelle tengono comunque la barra dritta sui valori di sempre, ad esempio alla tutela dell'ambiente? Quello senza dubbio, anche perché noi a livello regionale abbiamo un candidato che è Roberto Cenci e che ha portato effettivamente diverse progettualità, sia per il lago di Varese che per il campo di fiori e abbiamo poi tra l'altro anche un manifesto con tutte le cose fatte fino ad oggi da Roberto. Non vogliamo però fare un eco solo ed unicamente all'ambiente, ma anche al turismo, al sociale e altre tematiche che noi riteniamo importanti e strategiche come Movimento 5 Stelle. Rimane il fatto che nell'ambito del manifesto, quando abbiamo trattato i temi, abbiamo aggiunto e corretto e migliorato quelle che sono le tematiche, tipo l'onestà, il discorso relativo alla meritocrazia e dedicandoci anche a diversi argomenti come un'economia circolare dedicata al Comune di Varese. Grazie!